L'ultima morte bianca in provincia di Arezzo si è registrata pochi giorni fa. A Castelfranco Piandiscone, l'area industriale del Botriolo, ha perso la vita un operaio di 51 anni, sposato, padre di famiglia. A soli cinque giorni, dunque, dalla ricorrenza che celebra le vittime e gli invalidi del lavoro, dobbiamo constatare che nel 2020 si muore ancora di lavoro. Il prossimo 11 ottobre, la cerimonia che celebra la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, si svolgerà anche ad Arezzo, presso la sede a Rettina dell'Anmil. Ci sarà la consegna dei prevetti e dei distintivi d'onore agli invalidi, poi alle 11 la Santa Messa nella chiesa di San Bernardo e alle 12 la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti sul lavoro. Una giornata in cui ricordare dunque le storie di tutti i lavoratori e delle loro famiglie, che hanno pagato un prezzo troppo alto per un diritto a quello al lavoro ancora non abbastanza tutelato. Tra i temi della giornata, la inadeguatezza delle tutele contenute nel testo unico degli infortuni che risale al 1965 e che lascia fuori alcune categorie di familiari e stretti congiunti, non prevedendo alcun supporto psicologico e non garantendo soprattutto un effettivo reinserimento al lavoro.